Come giudica l'operato di Spacca? Lei lo riconfermerebbe alla guida della Regione? Di Spacca sento quello che mi dicono che è stato un buon governatore, io ho sempre avuto rapporti con lui molto cordiali e il conflitto che lo contrappone a Renzi e al PD di oggi non è detto che sia un conflitto motivato in favore di un rinnovamento perché rinnovare è giusto se uno ormai ha consumato la sua corsa ma se un insegnante è bravo può anche insegnare oltre il tempo massimo più di un giovane quindi il taglio preclusivo a lui di Renzi probabilmente è un po' astratto, l'idea che ci sia un rinnovamento non deve significare che chi ha capacità ed esperienza deve essere a parimenti messo in pensione quindi in linea generale credo che varrebbe la pena consentirgli di fare le primarie perché fossero i cittadini delle Marche a valutare se quello che ha fatto può essere premiato da un ulteriore mandato o se invece come capita quando i cittadini alla fine sanno quello che vogliono uno non ha fatto quello che doveva fare e passa un altro quindi le primarie hanno in sé la possibilità di consentire al candidato di mettere alla prova quello che ha fatto e quindi credo che sia, certo uno potrebbe anche avere più pressione perché ha più in molti casi è avvenuto che non è bastata l'esperienza, la pressione, i blocchi di potere a consentire a qualcuno che vincesse le primarie magari ha vinto qualcuno a cui la popolazione affidava maggiore speranza in virtù degli errori fatti da quello che c'era prima quindi credo che il PD perde l'occasione di mettere alla verifica per la candidatura di Spacca che rischierebbe di candidarsi con un'altra area o con il centro-destra Si parla di Bellosconi che appoggia la lista Marche 2020 Sì, l'ho detto infatti, appunto questo è grave per tutti, grave per il PD ma grave anche per Spacca quindi non so se sia la soluzione giusta che lui comunque stia in gara sostenuto da una parte che è diversa da quella che l'ho sostenuto fin qui e quelli che l'hanno sostenuto avrebbero il modo, come è capitato con me nel caso mio se avessero così che avessi fatto le primarie a Urbino potevo vincere e anche perdere così hanno perso perché hanno stabilito e loro rischiano di perdere per non dare a Spacca l'opportunità di mettere alla prova le proprie capacità e il riconoscimento delle stesse Grazie 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 Grazie